salve a tutti e ben ritrovati sul nostro canale sono a fare questo video appunto un video live insolitamente dai video che faccio di solito per due motivi il primo per inquarare chi mi segue e mi vede pubblicare da un po di tempo sul canale per fargli vedere che sono ancora vivo e vegeto e per quanto riguarda le rubriche tecniche del collezionismo però sono un po fermo in quanto richiedono tempo e riprenderemo a settembre quindi si tornerà alla grande ma voglio in particolar modo ad approfittarne per annunciare la nuova rubrica che vi vado quindi a presentare si tratta della rubrica tic tac club ed è la rubrica dedicata agli amici del canale questo canale come molti di voi sapranno è nato in un periodo molto particolare ovvero il periodo del lockdown è un canale nato diciamo così soprattutto come passatempo e proprio in un periodo in cui i giorni scorrevano molto ma molto lentamente e il fatto di tornare alla vita normale ad incontrarsi sembrava quasi un miraggio una frase che spesso si diceva con gli amici era quella che quando finiranno gli arresti domiciliari che apriranno le gabbie ci incontreremo finalmente per per vederci e parlare dunque di orologi ebbene questo momento già da un po fortunatamente è arrivato e quindi questa con questa nuova rubrica io andrò ad incontrare appunto gli amici del canale e che saranno i protagonisti si faranno delle chiacchierate si parlerà di orologi saranno loro a raccontare le proprie esperienze ci faranno vedere qualche qualche orologio oppure semplicemente racconteranno della propria passione io mi limiterò a fare da conduttore e i protagonisti sarete voi saranno dunque video molto brevi soprattutto live in cui si faranno chiacchierate con pochi montaggi e ben fruibili anche per chi di voi in vacanza sotto l'ombrellone e non vuole scervellarsi sulle analisi tecniche specialmente per chi magari dimenticato a caso il quaderno degli appunti nasce come una rubrica estiva ma mi auspico che possa andare avanti nel tempo e possa diventare una rubrica a quattro stagioni un po come la pizza e dunque per questo video è tutto mi trovo qua immerso nella natura non c'è neanche bisogno della colonna sonora perché ci viene offerto questo concerto gratuito dalle nostre amiche cicale e vi do quindi appuntamento alla nuova rubrica tic tac club e a di video che prossimamente andrò a caricare sul canale buone vacanze e grazie per la visione ciao alla prossima puntata e dunque se anche tu vuoi far parte del tic tac club puoi contattarmi su instagram sulla mia pagina instagram che porta sempre il nome del canale ovvero tic tac what channel innanzitutto vi invito a seguirmi anche su instagram per chi già non mi segue e dopodiché mi potete contattare e chiacchierare di orologi